Allora ragazzi, continuiamo con la seconda parte del concerto. Ad esempio, per ricordo, un tipo esse che c'è il loro cd, del sexpetto aglio di assolutamente, che contiene alcuni barraghi che anche hanno sonato e sonneranno questa sera. Quindi, in caso, 5 euro, gli darei un'ora a me. Signore e signori, l'invento del giallo, duo, Alma e Egano! Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.